Il senza dimora è una persona che vive la solitudine, per scelta, per imposizione da parte della società, però è una persona sola. Più che una scelta diventa un'abitudine. Cominci a vivere per strada perché non hai la possibilità di avere una casa, non hai una rete che ti sostiene, ti disabitui a quelle che sono le regole domiciliari o le regole dell'abitazione. La difficoltà poi sta nel riacquistare queste competenze minime di base per poter vivere con gli altri e attirare fuori nuovamente quelle risorse che sono state, tra virgolette, sotterrate per dare spazio ad altro. Se pensiamo, per esempio, che un senza dimora dorme per strada ma poi durante il giorno non ha la possibilità di concentrarsi su se stesso perché deve cercare come soddisfare i propri bisogni e quindi alla ricerca della mensa, alla ricerca del servizio doccia, alla ricerca del servizio legale. Quindi è un continuo girare per rispondere al bisogno del qui e ora, senza poter dargli la possibilità di proiettarsi e fare una progettualità su se stesso. L'accoglienza all'interno dei poli permette invece di evitare questo circuito di ricerca, di risposte quotidiane per concentrarsi su una progettualità a lungo termine. Dimora un progetto con finanziamento Pommetro, asse 3, servizi per l'inclusione, un progetto che parte nel novembre 2018, ovvero viene firmato il contratto per l'avvio quattro mesi dopo ma noi volevamo correre, quindi anziché cominciare a febbraio abbiamo cominciato subito a gennaio proprio per dare accoglienza e dare risposta a quella che era l'emergenza freddo del periodo. Il terzo polo viene avviato a febbraio e possiamo dire che da marzo in poi abbiamo portato avanti quelle che erano le attività del progetto nell'articolazione totale delle iniziative proposte. Cosa abbiamo fatto in quest'anno? Abbiamo dato tanta accoglienza, abbiamo accolto le persone cercando di sostenerle partendo dalle cose più semplici quali per esempio l'accompagnamento alla residenza virtuale che è il primo passaggio per rendere una persona senza dimora visibile agli occhi dell'istituzione. Poi abbiamo fatto accompagnamento rispetto a quelli che sono i servizi sul territorio, servizi sanitari, servizi legali anche perché all'interno del progetto è prevista pure la figura di un tutor e di un avvocato. Poi per quanto invece riguarda altre situazioni ci avvaliamo del supporto di esperti e professionisti che collaborano con la nostra RT di progetto. RT di progetto formato appunto da un ente capofila che è l'Istituto Don Calabria, l'Istituto Valdese, la Panormitana Cooperativa Sociale che è un braccio operativo di Caritas e Croce Rossa Italiana, il comitato di Palermo. L'idea di mettere insieme queste realtà che vengono da storie diverse ma con un filo comune, un filo conduttore comune che è quello di assistere e accompagnare le persone con professionalità, non è da semplici volontari. Questo è un elemento secondo me molto importante. Professionalità appunto che poi vengono sviluppate secondo la mission associativa ma che si sono ben incastrate tra di loro. L'esperienza di Panormitana nell'accoglienza dei senza dimora, la professionalità dell'Istituto Valdese, le competenze anche dell'Istituto Don Calabria promotore di alcune iniziative sui senza dimora nel territorio panormitano insomma incastrate bene. Devo dire che hanno portato a buoni risultati, non dico ottimi ma voglio dire buoni risultati. In questo momento sono quattro poli ma c'è anche l'unità di strada appunto. Tutto nasce proprio da lì, dall'unità di strada che è gestita da Croce Rossa che tutte le sere quindi per ben 365 giorni l'anno va in strada, fa il monitoraggio delle persone che vivono in strada ma il lavoro principale di questa unità di strada e fare aggancio relazionale finalizzato all'avvio di percorsi di presa in carico e di accompagnamento alle strutture di accoglienza. Quindi dopo appunto questo passaggio, questo primo approccio con l'unità di strada si predispone un incontro con il servizio sociale istituzionale quindi dell'UO Marginalità Adulta del Comune di Palermo e da lì poi appunto da questo colloquio viene predisposto l'inserimento in una delle quattro strutture. Casa San Francesco, Casa San Carlo, il centro Agape e in questo momento la Domus Carmelitana Siculorum che ospita in emergenza persone accolte appunto nel periodo di lockdown per l'emergenza Covid. Una volta dentro le strutture appunto comincia un periodo di osservazione e di accompagnamento con le persone e lì poi viene stipulato e redatto il progetto di intervento con la persona che serve appunto a sostenerla ad accompagnarla verso la fuoriuscita. Chiaro è che fuoriuscire da un percorso di accoglienza non è semplice in un territorio come il nostro, però dico noi mettiamo dei piccoli tasselli che possano essere da supporto affinché queste persone poi abbiano lo slancio verso l'autonomia.